Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti in questo nuovo video di GTA V Online. Oggi siamo qui con... Grego, ciao a tutti. Kofano, ciao a tutti. Allora ragazzi, come vi avevo detto adesso stiamo un pochino gicando GTA insieme. Stiamo facendo qualche missioncina. Direi che adesso continuiamo con un'altra missione, con un altro preliminare. Mamma mia... Ah ok, mi si era... vedevo tutto strano. Mettiamo un po' della vaghetta. Dobbiamo ricognire. No, no, chiamo io. No, no, chiamo io. E' pure spagarla quella E' magari perchè ti dice che sei troppo vicino al veicolo personale attuale, no? Non puoi chiamarlo se sei, tipo, taggato alla tua macchina Cioè, puoi chiamarlo ma non te la porto perchè ti dice che sei troppo vicino Ok Cantiereo la valle Pacific Elliot Non so dove sia Posso supporlo Devo spaccare il finestrino Graebomb Graebomb Graebi sa I dei romperla dalla macchina No Si muo tutto attacchia salatice Io non taccoco Era bella quella Era i demi Io poco sull'appartamento ma l'attacchia salatice Insomma, io non taccoco Cioè, in quel periodo per lì lo percolavo potentemente io le condito Ma in quella che lui ce la cercava però eh Ti ricordi che, cioè io ti ricordo che in quella serie lì sono state le due perle maggiori di Simo Quella dove c'era Simo che diceva va bene che ti mando queste facce Quella lì era una e poi l'altra è stata quella che tipo c'era Simo col Fiat Oh Fiat loco, ti vuole bene? Oh, io voglio male Ti voglio male, oh Viene qua, vieni qua, si manda via te il nome Poi gli ho scampato dietro lì le fatte Mi sto ridendo talmente tanto che mi sto incollando a qualunque cosa Gli ero mappato tutto lo classico e mi staccera tutto, il camion non cambiava più Sì mi ricordo che poi, cioè, il classico andava avanti girava con le ruote ferme Io gli avevo messo che non funzionava più l'inversore, gli faccio, eh sì ma poi io solo marcia avanti Ma, ma come, ma non può essere, dai Vingio, quando ride Madonna che so, un fidget spinner Oh, ma è finita la moda di quei cancri lì, eh Senti come si è sforzato per dirlo bene Che so, fidget spinner Sì che tipo, il 90% della gente li chiamava finger spinner Non fidget Sì, ma dove stai andando? A spinare A seguito il gpf Ah, è che ho tutta la gara, vedo come contro le case Fortuna che io c'ho l'armatura al 100% su sta macchina, se no sai quante volte... Già mi era esploso Con tutta la roba che mi ingolla Eh le, teco sul tramvario Tramviero, tramvario, tramvicolo Questo è un tramvicolo, un vicolo di un tram? Eh Eh, ho fatto la curva tanto stretta Eh, ho fatto la curva tanto stretta Cioè, se non ti ha Poi da andato a farmi, fa me tre ore di tirare a efficare perché lo fai se mi erano ti cambi Torneremo, torneremo tranquilli O no Sì, dai Boh O no Sì Beh, io poi sì Sì, sicuro Che sto facendo tutte le foto a Lester Che bello No, le sto facendo, le sto mandando a Lester Tipo sto facendo un sopralluogo Non penso che Di starlo facendo nel modo giusto Con la macchina, però Finché non mi dice niente Facciamo via con la mazza in mano Eh, quale mazza? Quella Ma c'è da fare una foto a ogni punto in cui c'è la foto La ridugnata Sì Cioè, devi andare da lì vicino Poi devi fotografare quello Cioè, devi stare sopra l'immagine della fotografia Oh, questo svegliato Come si fa? Cance Come faccio a farla? Fotocamera? Eh, fotocamera e poi la scatti Boh, io tipo, ho fatto una cazzola e mia da Lester Ma sì, se ti dice in via Lester vuol dire che va bene Sì Tipo sto facendo un muro Ma perché là c'è, rimane quella blu Il simbolo blu Perché è la prossima che bisognerebbe fare Ma no, l'ho appena fatta Non va bene Samu, vai al piano superiore Già che sei a piedi Io vado a fare quella Ti fai selfie? What? Io vado a fare quella Eh? Ma verso dove la vuole la foto? Te lo dice in basso, al piano superiore Io so ne via foto a Lester Eh, premi lo spazio Gli mandi Ma se la piano superiore Ah Ah, il pontile devo fare Ok Come si va da sopra, raga? Eh, c'è stata la scala C'è stata la scala, no? No? Da parte del ruolo, ti mi sa Qua? No Ho trovato la scala Una scala enorme Ok Ma ora come faccio a mandargiela? Ah, fonteviate 9 su 10, ok Questo piano superiore Sì Perfetto Leave the zone Una facciata per sicurezza La tiriamo sempre Chi ha coltello la zendorno? Lascia la zona, lascia la zona Ma Ah, ah Oh, c'è adesso Ma Non ho notato tutto il tempo prima non era giorno Ma che cazzo Grego Vanno abbazzato Giannet Ho fatto tutto in aria Ma che è tutto? Non c'è manco sulla lista dei player Tu lo giuro Ho scappato Ah, ecco, abbandonato la sessione Giannet si è abbandonato la sessione Ah, e io ho guardato Eh, non c'è Ma vai a un hacker Aspetta che i membri dell'organizzazione lasciano la zona Oh, la lasciate sta zona Che ta' fa? Eh, io ho appena dovuto rubare la macchina Ciao, ma hai bisogno di passaggio? Sì Dai Che tipo mi ricordo la zona dove ho fatto il primo video di VTA Con Daniele Online Dai cazzo, non cazzo Non cazzo Io sta comando da grego Dai cazzo, non cazzo Che modo stai vettinato il mondo Stavo da io prima Coccolone Glue Ma che senti qui? Glue Che tipo parte di per la macchina Mettimi un punto sulla mappa Eh, mettimi uno al culo Dai, su Come siete scurrile Ah, vediamo di prendere un ectacoptero Perfetto, qua non ce n'è Non c'è gli elicotteri, ma sei serio? Eh, uno là lo vede Dai, io tu Mi rischio apocalisse Cosa vuol dire? Continua il colpo Cos'è sta roba? Boh, ne ho accettato una Facciamo? Che cosa? Non lo so, mi ha mandato l'invito L'ester L'ho accettato Senza dover andare là Me l'ha mandato Ma credo che non sia un preliminare Sia una preparazione I think so Non lo so Sono a quanto come Cioè nel senso Qual è il prossimo Di questa serie? Eh Allora Puoi fare preparazioni Cioè puoi fare I preliminari E poi puoi fare le preparazioni Del preliminare Oppure puoi fare Prima tutti i preliminari E poi tutte le preparazioni Non c'è una Un ordine in teoria Cioè basta che fai Il primo e il preliminare E poi la preparazione Poi fare Tutti i preliminari E poi tutte le preparazioni O fai preliminare Preparazione Preliminare Preparazione Ci sta mettendo 18 mesi A caricare Ma questo è normale Ok ragazzi Dobbiamo rubare un borsone Ci penseranno loro Perché sono molto più vicini Di me credo Sì 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 Andiamo a noi Dov'è il borsone? Il borsone di Payday Dov'è il tu Grego? No È verde e c'ha un H sopra Sì 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 Metti c'è il puntino che non lo vedo C'è sopra un player C'è tipo sopra Sì Adesso Dobbiamo andagli a rubare Grego dai Che c'è la polizia Posso fareci con un veicolo Eh no Grego ovviamente sto puntino Ma io lo vedevo sulla mappa Ah anche io aspetto Lo vedo E credo ce l'abbia un player sai Tipo Grego guarda In questa direzione Un player Come si fa a uscire Da sto schifo di posto Ma io ho appena chiamato Lester Samu Cazzo E non ho fatto niente Non mi ricordo più Come si esce Dalla mia base operativa Ci rendiamo conto Se questo qua Ci distrugge la vagiletta È un casino Eh adesso non mi fa più togliere Il livello di sospetto Non c'è manco più Gli assistenti qua Mi si è bugato tutto Mi si Ma se mi uccido Non c'è manco la pistola in mano Ma Poco bugato GTA Io vedo Guarda dove sono sponato Però Non vedo Sulla mappa dov'è Sono sponato sul monciliad Non ci voglio credere Eh ho visto Ma perché sei sul monciliad Ma non lo so Mi sono ammazzato Da dentro la mia base Sono sponato sul monciliad A piedi Io non vedo la vagiletta La vagiletta La vagiletta Solo tu hai capito quello Io ho capito vagiletta Guardate cosa mi tocca fare Ma tu guarda Ma c'è la quella lì Oltretutto la H o è un puro caso Che ci sia No è là da lui Proprio Dei Ma come si vanta l'andano È un rango 113 Non è fortissimo Però È tipo nel punto più nord della mappa Porca drota Non c'è la macchina Non c'è la macchina Non c'è vanno la mia Ora vado là con l'ho presso Vado là con l'ho presso Rinteglio faccio presto Però Se noi diamo azendo non faccio io Se tu c'è da fare Eh io prima devo arrivare per terra Ora Adesso mi butto di qui Mi ammazzo Vado là con l'azendo Maestrutte tutte Maestrutte tutte Ah ok Sta Ah belli va Maestrutte l'assicurazione Perché? Perché sono tutti occupati tanto È di buttare giù Richiamare quando fa così Ah belli va Con il tanti Dischere Ma questa non va fatti O credo maestruttu sia la furia Che tutte quelle camminate Maestrutte Ah io è No tu E chiama l'assicurazione Per farti deridare no? Eh Per quanto Quando la deridiamo L'assicurazione C'era 30 anni Faccio prima La chiamare questa qua Questa non è che non va avanti Niente Camminiamo un po' meno Ma Che macchina è? È la Quella da drift mia Blu Qua se c'è Bianca Ah la Banshee Dai portamelo presso Orchè almeno Vado là Sparo a queste Sono contenti Siamo tutti contenti Non è tanto bello Usare l'oppressor Per fare queste missioni Perché toglie un po' di divertimento Però Se in questo caso C'è un player E rischiamo che ce la frega lui La uso volentieri È ancora là Ecco La sta già portando via Non vorrei capire Cioè vorrei capire Do cazzo Sta questo Sta nell'angolo Più a nord Della mappa È tutto a sinistra Ma Quale fa sapere Che ci si arriva A noi Quella valigetta Praticamente Compare Sulla mappa Credo Non lo so O magari C'è la lui Noi dobbiamo rubarla A lui Non lo so Ho un soio Ma gli sono oramai Sul collo Stiamo a 2 km Si dice Gli sono sul collo No Gli sono Col fiato sul collo Col fiato sul collo Gli sono alle calcagne Ecco Alle palle Eppure tu The Kid 95 Ovviamente The Kid Lo leggiamo in inglese E poi 95 In italiano Carmen 22 Vabbè Tutti occupati Ci sono operatori Da mezz'ora Non so cosa fare C'è uno con l'elicottero Anche qua vicino Che non permette Nulla di buono Stromposo Ma cacchio Si chiama sto qua Accelera Un attimo Dov'è questo? Dammi la valigetta E grazie E va A quel paese Mi sta devastando Ma è devastato Di brutto Sbrigatevi un po' Venire qua Che ce n'ho due persone Contro di me Eh Samu Sto in inglese Sto arrivando Mette il giubaton di bagliettile Io? Eh no Io Eh no io Perché? Eh qua andiamo Giù a far colore Ma dai Ma pure quell'altro Rango 24 Che non ha una vita Mi ha ammazzato Mi hanno anche distrutto No ma mi hanno distrutto L'oppressor Dovete sbrigarvi Velocissimi Tipo Cioè siamo a tre chilometri Poco più Samu non la più macchine Fa più la Banshee o la turismo R? Fa bruismo bene La turismo credo Sì ma dovete spiegarvi Dai di più di più Siamo qua a tre chilometri Né troppi Se mi rispondesse Stacribile assicurazione No a me non risponde pure Eh Non mi aveva risposto Prima MMI Vi aspettiamo L'aspettato Io vedo Guarda questo Che c'ha pure La fabbrica Vedo C'ha di tutto Questo Vabbè questi qua Non rispondono mai Infine Dai venite con Armamenti pesanti Che dobbiamo farli fuori Tutti Eh ma pure Spawna Vici Eh lo so Ma intanto Tu la valiglietta Ce l'hai O la stai perdendo Ogni volta No Ogni volta Me la fa perdere E come facciamo A mantenerla Non lo so Grego Basta che dovete Venire qui E in qualche modo Mi aiutate Perché sono da solo Contro due E ogni volta Che non mi Non mi aiutate Che poi cambia Diventa notte Giù No E' uscito Della sezione Non c'è più la valiglietta Ammazzato Non c'è più la valiglietta N Davvero Mi sto facinando Si mi sto avvicinando Non c'è più Non c'è più la valiglietta Non c'è più la valiglietta Magari c'è la troppa Lo stesso Ma tu guarda Se bisogna Tribolare così Per fare le missioni Ma adesso è nascosto Al radar Quello Ma se è abbandonato La sessione No Cioè Se è tolco Un'abbandona La sessione Come si chiamava Ho visto tipo Qualcosa a 95 Non mi manco Mi ricordo Io continuo a ammazzarlo Vuoi guardare un po' se riuscite Ma la devastante è visto Ne ha nito Adesso ce n'è alcun altro Però c'è stato un po' Ossè 95 E' questa conta Crego Perché sei col trattore Perché c'era solo questo Da pia Ma mi sa che era mai Ormai è finita la cosa La valigetta Ci ha rubato La fine Dov'è? E' ma noi vado a spada la macchina Eh sì ma Ormai è inutile Fargli a spada la macchina Eh ho fatto Devo ricominciarla Devo ricominciarla Va bene ragazzi Vi ringrazio per la visione Da Dan Prego Si sono E' tutto Ciao a tutti Ciao a tutti